La scelta che spiazza tutti Cherry Season, puntate stranieri, la scelta che spiazza tutti Anticipazioni Cherry Season, puntate turche, emre stupisce tutti. Cherry Season saluterà presto il pubblico di Canale 5 per sempre. La sop turca, basata sulle altalene sentimentali di Oiko Akar e Hayat Zdincer, tornerà nel daytime della rete ammiraglia a partire da lunedì 21 agosto, dopo una pausa di due settimane. La seconda serie sarà l'ultima della telenovelas che si chiuderà con un lieto fine da favola per tutte le coppie di protagonisti. La più intanto attesa dai fans della serie non riguarderà soltanto Iku e Hayat Z, ma anche Emre e Burku. La sorella di Meta e il tassista amico della Akar riusciranno a superare tutte le incomprensioni, trovando la loro strada. La differenza di status sociale tra Burku ed Emre creerà qualche problema alla coppia, soprattutto al ragazzo. Il giovane sarà intenzionato a sposare Burku, ma non senza aver costruito una base stabile per il loro amore. Nelle ultime puntate Emre ha fatto di tutto per racimolare più denaro. Il lavoro eccessivo e la stanchezza hanno però creato qualche tensione all'interno della coppia. Le anticipazioni turche di Cerris e Asun svelano che nelle prossime puntate una scelta cambierà la vita dei due personaggi della SOP. Cerris e Asun, anticipazioni turche, Burku aiuta Emre. Negli episodi turchi di Cerris e Asun, dopo il terzo incomodo che spunterà tra Seima e Mete, Burku deciderà di aiutare Emre a trovare la sua strada. Il tassista deciderà di buttarsi nella musica, accantonando tutti i suoi lavoretti fortuiti per diventare un musicista professionista. La sorella di Mete lo sosterrà diventando la sua manager. Il nuovo lavoro di Emre sarà la svolta necessaria alla coppia per compiere il passo successivo. Nelle puntate turche di Cerris e Asun, l'amico di Oiku chiederà alla fidanzata di sposarlo. Una dichiarazione pubblica davanti agli amici che commuoverà tutti, compresa Burku. La sorella di Mete accetterà. Presto l'amore dei due ragazzi sarà coronato dalla nascita di un figlio.